Scusate, allora questa è la cionta per la pasta Mi prendi a Felicia Felicia, lei è felice di questa pietra? Aaaaaaah! Mamma, ti ha la limite, ti si mangia Ma basta, ma tremina la mamma Andiamo, andiamo Dismaltis, dismaltis No, no, no Allora, dismaltis Allora, da sopra Che cappolta Vieni che ho posito la caccia Aspetta, aspetta Aspire, vedi tu Aspire Aspire Oli a te Oli a te Oli a te Felici Oli a te Aspire Aspire Oli a te Aspire auguri è il 3 è il 3 è il 4 è oggi è 4 è oggi è 4 è la torta mi ti è rissuto allora ripasso vabbè sulla candelina ehi torni per essere un regista allora auguri fai vendire l'otto mi prendi l'otto mi prendi l'otto mi prendi l'otto mi prenderemo dopo la pubblicità l'unico liquore che si fa l'unico liquore la vita l'unico liquore di origine signore e signore in questa pubblica piazza non vengo per vendere chiacchiere ma per vendere casta morte a chi ne compra 1 e 3 di regalo da sua famiglia diamo signore che ce l'ha usato Life magari è Hert riprendi a Peppino riprendi a peppino ehi riprendi quando vi taglio della torta steiga riprendi a peppino stai ca riprendi quando vuoi tagliare la torta ma fa flambe ma fa flambe ma non contro è finito è finito è finito è proprio la casa che io ti chiedo tagli auguri a te tagli auguri a te quanti anni? ma che una torta che ditte di miurto da fare amica non c'è la torta però mi piace il fumo dalla torta che è finita che comune anni? il non ho messo? ma non mi affia no, che comune anni? è l'onome o il compleanno? ma che comune anni? l'onome o il compleanno? l'onome o l'onome o l'onome ho capito ma scusi, che comune anni? è l'onome o il compleanno? che comune anni? non lo usco al compleanno si poi glielo posso dare a Paolo perché tanto ho detto in che comune anni non lo usco al compleanno che cosa è? nessuno ha la chiavetta la memory card ce l'hai? ce l'hai? questo ce l'hai? ce l'hai? ma la chiavetta ce l'hai? ma la chiavetta ce l'hai? la SD ce l'hai? ce l'hai? ma si mangiava? è più doppia la chiavetta è più doppia la chiavetta come? come? pulisci la chiavetta che è in dipane qua la chiavetta va bene più giù della chia giù giù ancora più giù vicino al nese come si chiama Cosuania? Michele e oggi? sa Michele oggi? si oggi sa Michele oggi è il miracolo la maschera la cara era una maschera però io volevo dire che diciamo che lui oggi è il suo però mentre tu perché tu vuoi che dobbiamo vedere perché tu a parole tue Peppino a parole tue siamo sempre in diretta su Telebration a Telebration internet che sarei io Telebration salutiamo salutiamo comunque salutiamo è International Telebration e io voglio dire che perché se noi perché perché noi diciamo che oggi oggi è il suo però compleastico però però voglio dire non è che voi diciamo che io chiedo a lui comunque no ti dico che è quello che è direttamente dal CIM Centri Gerementali di Matera vi salutiamo per te le prestazioni ma anche una persona comunque stamattina struzzo di chi ti è pur con la stella stamattina sono andato al cimitero stamattina e ho parlato con il sindaco mi vuole dare il posto a fare il custodio del cimitero io a me gli vogliono dare però poi mi sono reso conto sono andato vicino alle bar delle persone che sono tutti morti e sta scritto qua riposa Luigi qui riposa Antonio qui riposa Giuseppe qui riposa Giovanni sono andato al comune ehi io non voglio lavorare più questi hanno tutti che stanno riposando io solo devo lavorare i miei amici di cacca non cazzo che vede sono andato tutti si riposa allora io giusto con te le bracioli internazionali a lui sa anche di chi ti è purta vuole fare qualche saluto? ecco ehi senti 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 tu chiedi a me perché tu ti chiami lo spondino uno di chi? tu perché ti chiami lo spondino uno fatti i cazzi tuoi stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo e stai sereno Angela ma che ne pensa di Filipponsi? chi è buco stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo un applauso a un guamini sei più un frasolo ora stai calmo stai stai calmo stai downszan stai calmo stai marcando santi